O ammirabile Santa Luisa De Mariac, che risoluta di ricopiare in voi stessa l'immagine più possibilmente perfetta del vostro unico bene, il Redentore Crocifisso, vi applicaste a tutti i rigori della più aspra penitenza, nella solitudine di una spelonga in cui faceste sempre vostra delizia, l'estenuare con le velli e di digiuni, il macerar coi flagelli la vostra innocente carne, impetrate a noi tutti la grazia di domar sempre con l'esercizio dell'evangelica mortificazione, tutti i nostri ribelli appetiti e di far sempre pascolo del nostro spirito la meditazione la più devota di quelle cristiane verità che solo ci possono procurare il vero benessere in questa vita e l'eterna beatitudine nell'altra, così sia. Grazie 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 Grazie